Matteo, permetti? Ricordi il salutatore? Intanto ti faccio i complimenti, bellissimo film, è veramente Marcello un grande, hai avuto un grande coraggio e hai fatto bene perché hai vinto e ha vinto, Marcello è emozionante, io ti chiedo un saluto a tutti quei fan e andate a vedere Dogman perché è veramente bellissimo. Grazie. Prego, ho un regalo anch'io per te perché te lo meriti, la manina del salutatore, ecco qua, continua a rischiare, aspetta, aspetta, chiudiamo, allora questo per il prossimo tuo film, se mi chiami pure a me a lavorare come attore, quello che vuoi, grazie, saluto a tutti, ciao.